Ho provato a chiamarti. Ero impegnato. Magnus, ho fatto una cosa di cui mi vergogno. Ossia aver sbirciato in quella scatola. Sono uno stregone. Mi accorgo di una cosa fuori posto. Non ne avevo il diritto. È stata un'invasione della tua privacy e mi dispiace. Scusi, accettate. George, lui per te era speciale? Sì, è vero. Era un grande soldato, come un altro che conosco. Vuoi che prepari un paio di cocktail? Martini Monday. Sei gin o vodka? Gin. Gin. Non sei geloso, vero? Eri strano quando ti ho chiesto di trasferirmi.